L'abito stupendo per lo stupendo sempre... No! No! Non ha letto gli articoli su tutti i giornali? Ho appena preso la cittadinanza italiana e sono ufficialmente lo stupendo Samuele della Valle Fantastico, bravissimo, bravo Grazie, grazie Per lo stupendo Samuele della Valle il maestro Vito Prandilla le dona queste scarpe Oh, vero Le provi, le provi Grazie Comode sembrano comode ma dovrei provarle... Sai cosa intendo? Ci penso io Cosa? Dai Allora, io maestro Lui? Lui, lui, lui Mi permetta E' preso! Ma quando potrei sfociarle, secondo me? Sabato 30 settembre NWF Back to Business Bravo NWF Back to Business Lo stupendo Samuele della Valle Sarà presente Ed è pronto A farvi IL... Il look Pronto a farvi il look Continuiamo La stupenda È l'escrizione